Vi voglio portatori di pace. 21 luglio 1974. Figli, sia pace ai vostri cuori ora e sempre, e possiate portare dovunque questo dono prezioso, che non è frutto di caratteri apatici o indifferenti, non è restare nell'inoperosità, ma è frutto di quell'armonia che deve dirigere la vostra vita interiore. Infatti voi potrete godere di grande serenità e pace interiore, anche se all'esterno un mondo turbolento verrà a togliere quel silenzio e quella quiete, che sembra debbano contribuire alla realizzazione della pace. La pace che io vi dono è frutto della buona coscienza, ed è anche frutto di lotta continua verso colui che vuole annientarla nelle anime e nel mondo. Vi è come un santuario dentro di voi che dovete difendere dagli assalti nemici, e da coloro che lo vogliono sconsacrare. Quando perciò sentite che i pensieri fanno della vostra intima dimora come un luogo di mercato, fermatevi un momento, rivolgetevi a me. Io dissi però, come per un miracolo prodigioso, la nebbia e il disordine e vi porterò serenità e luce. Vi voglio portatori di pace, ma nessuno può dare ciò che non possiede. Il mondo è formato da anime in pena, ansiose di avere qualche cosa che è impossibile raggiungere, e le famiglie sono come sconquassate da una tempesta che tende a disunire e a distruggere con gli affetti più sacri, quell'armonia che ne è la conseguenza. Voi portate la pace dovunque. Sappiate comunicarla mantenendo la vostra serenità. Si legge nel Vangelo che Gesù, essendo ospite di Marta e di Maria, ebbe a fare un dolce rimprovero a Marta, che voleva distogliere Maria dal suo atteggiamento di ascolto della Divina Parola e di preghiera. Ma in quante case dovrebbe fare lo stesso rimprovero a molte persone che, tutte occupate nelle cose umane, anche se buone, dimenticano il compito importante di ascoltare il Signore e di parlare con Lui. A voi che in questa casa ospitale venite ad attingere la forza che vi viene dalla preghiera, questo incarico. Non vi dico dobbiate esimervi dal lavoro e dall'azione che fa parte della vostra attività, ma che possiate far capire a tutti coloro che vi circondano che, ad avvalorare l'azione, occorre la preghiera e che a Gesù, che prova la sua delizia nell'abitare tra i figli degli uomini, si deve far posto nelle famiglie, concedendogli quella ospitalità che egli desidera e ascoltando la sua parola. Portatori di pace siate dunque, nei posti di lavoro, di studio e dove le situazioni della vita vi portano ad essere presenti. Siate testimoni di quella pace che io venni a portare nel mondo, dice Gesù. Non compromessi, non sorrisi di approvazione, non aperta accettazione del male, ma quella delicata disapprovazione del male che deriva dalla rettitudine nel modo di agire. Figli, vi benedico e vi aiuto. Non prendete le mie parole come cose da dimenticare al più presto. Fatevene un impegno e sarà mia premura esaudirvi nei vostri desideri. Buona campagna, buone vacanze a tutti. Fate del bene dovunque, poiché chi vuol fare il male non misura i sacrifici.